buongiorno stronzi e oggi recap tanto ormai siamo solo di recap recapino bellino perché siamo appena usciti da una turbolenta serie di partite alcune scriptate ma già fatto io altri incredibili altre ma rimonte quittate una cosa assurda perché a questo punto la play ha deciso di non farci più giocare e detto questo ragazzi io vi lascio il video torneremo durante fine settimana vi aspetto tutti per la weekend league mi lascia il video di chiesa no vi invito veramente a uscire a guardare i cartoni animati grazie grazie potrei farmi quel paccone ora raga no 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 vabbè li rifacciamo anche se è un pacco assurdo vediamo provo ribelle eh per forza ci mancherebbe anche che me li tenessi vuol dire che ne trovo uno più forte qua dentro aspetta vediamo ho visto ho visto oh va bene ah mi ha fatto la liga con akimi e una nata sparte merda che ti saresti preso ah un bel cetriolo nel culo è ma che com'ho fatto non lo faccio no ичего che cazzo? avevo fatto una finta tonali, tonali, tonali vedi mi sa che era mia ex ha quittato che roba si è preparato di disegnirlo ma che cazzo? bello, bello, bello me lo regali che andava un cocco selvaggio un cocco selvaggio un cocco selvaggio aspetta che parte del piano un po' più forte un po' più forte ah signore, signore bellissimo 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 fantastico che buona che buona porca morda cosa in tasca mi cade perciò e non ho io io sono un pazzo sono un pazzo ragazzi ragazzi hai saputo che io sono il pazzo che non ho non ho ma che scherzo come si va a fare secondo me il soldo posso sbagliare ragazzi io sono un cazzo di genio non c'è niente da dire che pancia non cazzo baaa c'è niente da c'è niente c'è niente 3 4 4 4 4 5 6 no 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 pop no giornata di squalifica no bardi e verne non rileggo ora guarda che bocca mai lasciato guarda che bocca mai lasciato guarda che bocca mai lasciato e c'è e c'ho finito c'ho finito c'ho finito no bene bastardo che ti puoi dire a Caledù? che le puoi dire a Caledù? che le puoi dire a Caledù? che le puoi dire a Caledù? Sì, non mi scusa. Eppela! Eppela! Mi vuoi pigliare un altro con la sua di prima? Come ne vuoi pigliare un altro? Come ne vuoi pigliare un altro? Come ne vuoi pigliare un altro? Grazie. Il piazzi, il piazzi, il piazzi! No! Non ti smora, no! Eh, non lo voglio farlo. No! 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 Il contagi del genere. Oh! Ahahahah 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 Ciao Ahahahah 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 Ma io non vedete che è il momento di fare il cattivo Voi non mi avete creduto Sarmura Che è ma ottimo Eh Non lo so Devi giocare in alto Oh Semplicemente fare così Non è un problema E uno E uno No Nooo E E E E E E E E E PORCOLTA! 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 Che signore della sigla! Che signore della sigla! Che signore della sigla! Ripiega! Non c'è la palla! Bum 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 bum! Io non posso dire! Io non posso dire! Nooo! Tre posti con borse o altri oggetti! Aiaiaiaia! Viene una po' il campo! PORCOLTA! 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 I nochi! For miri! BELLA! SHhhhhhh! Guarda, per... non so perché l'hanno tolto quella cosi! Che bi fai il dito così... Cinenza cosa... Oh! Rosso! Ma stai scherzando! Andava in porta! Vai! forcément 환ifiche di mon amici! Eныхmeray che il gioco' è giusto stavolta, perchè andava in porta! io ho avuto la c***a è andata bene perchè se parlavi porca puttana di me no ora non esci eh, ora non esci bastardo ora non esci eh, ora non esci ora non esci ora non esci bastardo ora non esci ma che pallino da Focuman ma che pallino da fa Mertens ma che pallina ha aiutato ma che pallina che pallina che pallina che pallina signori posso? no 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 siii siii ci c***o è il papu è il papu oh oh papu papuuu 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 è più dirittoso se quitti giuro, giuro è più dirittoso se quitti dormi bene non masturbarti troppo nei miei resi si senti non dormi buon staccato giuro direi più uahahahah e k no 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 19 tiri in porta minchia minchia zio ehi la madonna ehi la madonna e ma più avanti peggio eh però signore se fai così sei un pirma eh ma di tonali eh figa un bitch ho pregato signore devo muovermi mi Porca puttana! No 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 qui... No, ti ritando! Ma mai del max! Dio lo sapevo! no 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 bene 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 6-0 6-0 6-0 rubata raga guardiamo le statistiche a prescindere è rubata non le statistiche 0 no Muriel no vabbè ma dove cazzo è passata quella palla ma stessa sotto anche un altro no no vabbè ancora 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 finita la di merda siccome si compagno su internet i gol no vabbè ma ma Andanovic Andanovic finisce no ma sei immobile ma è proprio vero è più così immobile nell'ermu collo io ho detto 4-0 si è 5-0 si ho capito ma ascoltate vuoi che entro io c'è il prasso bello! attenzione ragazzi potrebbe succedere qualcosa va nooo! nooo si inizia il carnevale di prima bene! oddio! si fa interessante eh! perchè non si è tornato indietro? e guardiamo anche, fare uguale non importa un'altra volta si dimostra un gioco di merda il sub potevano anche lasciarlo ste stronze zanza davanti che cazzo dici? io sono traceto adesso adri il milanista, no edena non è il nostro In realtà si, li spendiamo tutti soli Baffanculo! Che crede dobbiamo fare qualche con coccidillini? Vi salendo Signori, signori Quando entro io Non ce ne sono Oddio! Oddio che gol! Ma che cazzo ha fatto? Io però posso far così, no! PORGOI! Non mi farò! Se lo sbaglio non me ne frega niente! Aspetta! Così! Ciro! 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 No! Era via! 24 tiri contro due! Capite? Cioè dovete capire una cosa? No! 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 Porca merda! Oddio! Sì vabbè! Schermato! Schermato! Sì! E c'è anche il sergente! Scusami una cosa! E c'è anche il sergente che fa un gol della madonna signore! Euro! Sì! Hai ricordato? Sai quella cosa divertente? Però fa un gol! Secondo Twitch avere fame è frutto dell'identità! Buona cazzoncina che ho fatto! No! Rovinata dalla traversa! Stazione qua! Vai! Signore! Questa è la schifo! Voglio distruggere! Situare correttamente la raccolta differenziata all'interno! Bello! Mamma mia! Signori! Mi trebbe un po' sotterriggione che ha fatto! Vabbè! Ma che cazzo! E' un... Sette! 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 Se c'è gioco un... O superiore ti da un Settantasette! Per favore! Ok! Ma forse andiamo! Settanta! Sette! 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 Ok! Oh! Eh! Eh! Mothmore! PORCA! Oh, c***o! Oh, m***a male!